Sono già in campo Maximilian Merterer e Lorenzo Musetti. Buon pomeriggio ad Alessandro Sugoni. Raffaella Regi, ciao Alessandro, buon pomeriggio a tutti. Questo è bellissimo. Sulla riga, il rovescio fantastico di Musetti, 15 pari. Bravo. Grappassante di Musetti. Questo è bellissimo. Sul nastro, il rovescio di Merterer alla fine, al terzo tentativo, Lorenzo Musetti. Sì, ha avuto sei giocati. Come ha concluso Lorenzo. Eccolo qua. Che meraviglia questo rovescio di Musetti. Vaglia ancora Merterer in un'ora. Un disastro questo game. In un'ora e 47 minuti, Lorenzo Musetti vince. 6-4-6-2, accede al secondo turno dove affronta il vincente di Maciak Murray. Lorenzo Musetti. Grazie. Grazie.